Il mio corso di laurea è Scienze dello Spettacolo. Come spettacolo? E tu che fai di bello? Io sono un musicista. Eh sì, l'avevo intuito dalla chitarra. Ecco. Vai a riposarti, ci penso io qui, ok? No, Aurora, è un casino. Hanno chiuso tutta l'Italia, c'è la quarantena, lo capisci? Tutta l'Italia è zona rossa, sì, non ci si può muovere. Le scelte sono due. O firmi l'autocertificazione, ti presto i soldi per l'autonoleggio, oppure rimani qui. Ma tu un giorno hai detto che non sei a tuo agio con le cose che durano per sempre. Lo so. Io non voglio cominciare qualcosa sapendo di fare. Però se non stiamo più insieme io soffrirò molto di più. Perché questo è il vero problema. Il problema è che mi sono innamorata del ragazzo di mia sorella. Non possiamo andare a letto insieme! Certo che no! Certo che no! Aurora è mia sorella, cazzo! Ma io voglio te. E tu vuoi me. Quanto tempo sei stato in prigione? Per sempre rubiamo via... Lasciami un attimo... Come di nuovo? Che ti lascio fare di nuovo? Lasciami un attimo... Che ti fermi dai qui... Ma pure le mani... Dimmi che non ti allontani... Qual è la cosa che ti piace di più di Aurora? Sua sorella.